E cominciano subito, insieme all'inizio del programma, anche le polemiche di questo grande fratello VIP. Signori, a finire nel mirino sono stati stavolta i concorrenti di questa nuova edizione e a parlare sono state delle personalità super conosciute da parte del pubblico. Possiamo definirla una sommossa virtuale che è cominciata nelle scorse ore tutto durante la messa in onda della puntata number one, quindi quella iniziale, del reality show del mitico Alfonso Signorini, che quest'anno prevede la presenza contemporanea di gente famosa e gente sconosciuta. Perché? Perché ci sono i VIP e ci sono i NIP. Ci sono i VIP, gente conosciuta, ci sono i NIP, gente sconosciuta. Sconosciuta che diventerà conosciuta presto. Scusate il gioco di parole, ma è così. E vedremo poi cosa succederà se ci saranno, dopo questo programma, degli stravolgimenti nel mondo dello spettacolo. Sono state quindi diverse le ex protagoniste del Grande Fratello a contestare in qualche modo i concorrenti, ma soprattutto l'organizzazione dei vertici di Mediaset Pierre Silvio Berlusconi, come sapete, è intervenuto in prima persona per indirizzare la trasmissione in un certo modo, senza che ci fossero più volgarità e momenti trash come accaduto nella scorsa edizione. Ma andiamo a vedere come hanno reagito alcuni personaggi VIP. Uma ha questa novità sul Grande Fratello, coi concorrenti che sono tenuti ad avere un comportamento super rispettoso per evitare che possano incorrere in provvedimenti duri fino ad arrivare alla squalifica, non sta entusiasmando tutti. Ad esempio, Antonella Mosetti sui social ha detto, ridateci i GF VIP trash. Ho capito che a questo Grande Fratello se non hai una famiglia disastrata e un'infanzia devastante non ti chiamano. Prendete appunti per il prossimo anno se fate provini. Tutto disastrato. La Mosetti ha infine aggiunto, senza padri, madri alcolizzate, lavori di bassissimo livello, per loro, perché per me sono top. Un'altra cosa, non ci sono raccomandati. Nemmeno una è. Sì. Spazio anche a Guendalina Tavassi, bah. Cesara Buonamici è così tanto abituata a dare notizie che ha spoilerato che c'è il tuburio. Infine, Pamela Prati ha ironizzato, godetevi il successo, se mai lo avrete. Quindi, tutte loro hanno bocciato la nuova linea del GF. Ovviamente siamo solamente agli albori del GF, quindi per una valutazione più importante occorrerà attendere anche le prossime puntate e scopriremo se il pubblico premierà signorini oppure se vedrà altro in tv.